E buona buona immaginata Un attimo Oh, adesso sì che ci siamo Ma buona immaginata a tutti Buona immaginata a tutti, raga E adesso dobbiamo fare L'albero Sono felice, sono felice, sono felice Chi è il più felice di me? Io E la mia camera da tutta inottine Come potete Come potete vedere Non da niente inottine Perché io devo essere così disottinata Ma così disottinata Non da niente inottine Comunque vi faccio vedere Che cosa devo fare Ecco qui la mia camera Zico c'è per il letto E Neanche ci vuole mettere la foca Ehm Sì Comunque Guardate la mia Tesso a dire Comunque vi devo fare vedere Una cosa C'è Questo è il mio computer Comunque guardate C'è il letto vedere la pulio perché così non è lente, aspettate. Ok, così è la cosa, così, aspettate, vi faccio vedere. Comunque qua c'è dato un po' di tempo, aspettate, è bellissimo, c'è, ah, ok, oddio, ok, vabbè, qui c'è, è luce boom, tizia d'anel, capite, tizia d'anel, luce, luce d'anel, perché devo, vabbè, comunque, ehm, ragà, devo mettere la porta, devo mettere la porta, vaccino, devo mettere la porta, vabbè, ci facciamo quattro film, tutti mettere la porta, ciao, tre, due, allora, perché io sono così, c'è, ma comunque, i miei capelli sono un occhi falso, ok, c'è, ma lì c'è, ma lì c'è, non l'ho perdita, comunque, mettiamo a patto, fa tre, due, meno male, l'ho fatto bene, uno, eccomi qua, l'aga, sono andata a mangiare, ho trovato il bagno a patto, dicami, bene ragazzi, sono le, sottamente, vi faccio vedere, sono le, sottotici e sottotate, sono le sottotici e sottotate, sono le sottotici e sottotate, la c'è, adesso vi lascio, perché, probabilmente, da porto tutto questo casino, e ci vediamo, un po' finito, ciao, e eccoci qua, che cosa l'ho fatto, metto tutto in ordine, tutto, va bene, non è quello che mi metterò in ordine, e ci vediamo, dopo a capare l'appelo, fa tre, due, e eccoci la cazzi, a vale l'appelo, ecco, allora io mi, mi slecco il papà, mi fa perdita, ce ne è un pezzo, allora, allora che cosa, non fare così che rompi tutto, ma non, 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 aspetta, qua non c'è niente da prendere, aspetta per il momento, la capa c'è la griglina, guardate, guardate, la griglia, con mezzo la griglia, con mezzo la griglia, con mezzo la griglia, eh sì, allora, devo mettere prima questi, no, dove sta la griglia, ecco, le illuminate, mamma, voglio il capazzolino, non le apri, voglio il capazzolino, aprile, quelle vanno messe qui, aspetta, c'è, mamma, posso farle vedere l'appelo? adesso è così, poi lo dobbiamo completare, adesso è così, e poi lo vedi dopo, comunque, mi piace un sacco, già vogliare le luci, mi da luci, comunque, la cavallelo, avete già fatto, davvero, noi lo stiamo facendo, ok, papà, la casa, ci vediamo già, mamma, mamma, che sta mettendo le luci, papà, che sta venendo, mamma, che sta mettendo le luci, papà, che sta aiutando, guardate, sono le luci, c'è letto, I want, che molto bello, che bello, che bello, che bello, andiamo a vedere se le piacciono alle nonne, però vi faccio assistire le nuove e le salvatelle, perché non vogliono, no, no, ti piace? ti ho fatto il tuo video, approfato, mi piace, comunque, a troppo. Luca mi sono daudeata Benissimo Nonna Nonna Mi sono daudeata Della tronciologia Ha detto mamma Della tronciologia Ragazzi siamo Siamo tutti in pace Ragazzi guardate Ok ragazzi Appello fatto Appello fatto Com'è detto fatto Che ho detto Le serie due Sono le serie due Faccio esattamente E io non so Forse Forse M'ho detto Un altro video Sull'youtube Ovviamente Perché E niente E niente Niente Ovviamente Comunque Non è ovviamente E Obbiamo L'ombra Faccio un altro video A dopo Ciao Laki Non faccio un lamento Ti ho facuto un video Ti ho montato un video Che È molto importante Per me Non so se è la mente D'oggi Forse sì Perché Non so se ce la faccio E Vi amo Sappiatelo Perché ce l'ho detto Ciao Che vi amo Però Vi amo E Della prossima Sittimana Uccidiamo Faremo Vi farò vedere Le cose Ademo Per il centro E Niente Aspettate Quanto sono Brava Quanto sono Fa Te l'ho Abatto Con una mano E E ora Chiudere La cazzo Non fattissimo Occhio Occhio Che è molto Foglio Foglio Per me E a te Ciao A dopo La cazzo La cazzo Ma cazzo Ma cazzo Intanto Intanto Dove Canto Ciao Che stai facendo Col serpente Che bello Che bello Guardate Sì Cazzo Che è tutto Manzuale Mentre Io mi metto i cartoni E arriva Tutta manzuale Comunque Ci vediamo Dopo Ciao Raga Guardate Che mi è arrivato Il cartone Di patate Buono Guarda Guardate Detto Come Buono Ci mettiamo Dopo Ciao Allora Ragazzi Ciao Cosa Dice Non ho Fatto La Più La Per dire Dopo Ma Ho fatto Tre cose Come Vedete Io Sto Sono Nel letto Perché È finita Un'altra giornata E Menù Ad E Finita E Niente Non Come D'ambe Ci vediamo Al prossimo Video Ciao Se il video vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi Le Coddivitate Ciao 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 Ciao